Inizia con un pari il girone di ritorno dell'Avastese che impatta l'Aragona nel deserto stadio abruzzese contro il Rieti 0-0. Un'Avastese che non riesce a sfondare il bunker del Rieti. Già al sesto si vede la squadra del molisano Fulvio D'Adderio con Martinez che imposta per Diarrà. Conclusione dai 20 metri e spera sul fondo. La risposta del Rieti arriva al tredicesimo sulla corta ribattuta della retroguardia Vastese sul cross di Tiraferri. Il mancino di Esposito con la parata facile da parte di Marco Di Rienzo. 17-0 ancora Vastese con Obodo che ci prova dal limite. Gira male e su fondo Martinez che va a correggere il cross del Colored. 24esimo e Montesi su calcio di punizione di Renzo accompagna la spera sul fondo. 27esimo, retropassaggio del Rieti all'indietro. La Vastese chiede il calcio di punizione in aria. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire. Mezz'ora esatta da rimessa laterale del terzino Brumat. E' segnata nel cuore dell'area di rigore a effettuare la rovesciata con la sfera che termina sul fondo. 32esimo, il cross dalla destra di Di Prisco. Gira in corsa Mamora la parata da parte di Saglietti. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. Si abbassa tantissimo il Rieti. Il Rieti, la formazione di mister D'Adderio, ha il possesso palla però crea poco. Al decimo il cross di Martinez dalla destra. La testa è di Di Allò in corsa. La sfera è abbondantemente alta. Sulla traversa, quarto d'ora del secondo tempo. Barbadosa dalla destra. Il cross incornato da Di Allò è parato da Saglietti. 36esimo, la più ghiotta. Occasione del confronto. Lancio di Di Allò per Martinello sul filo del fuorigioco. L'ex Campobasso si presenta tu per tu con Saglietti. Pallonetto con la sfera che prende in pieno la traversa. Torna incredibilmente sul rettangolo di gioco. Momento topico del confronto per Lavastese. Quarantesimo, Meola ancora per Martinello. Controllo e diagonale con la sfera di pochissimo sul fondo. Break, Rieti al quarantunesimo con Vari da poco in campo che calcia in corsa. Il diagonale con la sfera alle stelle. Nel finale il cross dalla destra da parte del nuovo entrato fermo. La rovesciata di Martinello e la sfera sul fondo. Si spengono qua le speranze della Vastese. Finisce all'Aragona 0 a 0.